Il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pancrazio ha incontrato a Palazzo dell'Emiciclo la Presidente della Comunità Ebraica di Roma, Ruth Dureghello. L'incontro si è tenuto in occasione del convegno sulle leggi razziali tenutesi nella sede del Consiglio regionale, un vero momento di riflessione organizzato dall'Istituto Abruzzese per la storia della resistenza e dell'Italia contemporanea. Sulla giornata formativa è la stessa Presidente della Comunità Ebraica di Roma a spiegare l'importanza dell'iniziativa, a cui hanno partecipato circa 200 studenti di diverse scuole abruzzesi. È stata un'occasione per crescere insieme, per conoscersi meglio, per ragionare sul passato, ma soprattutto per comprendere il presente e cercare di costruire insieme una coscienza collettiva, un senso di responsabilità solidale, emblematico il modello del progetto, che devo dire mi ha stupita positivamente, perché qui l'istituzione si fa protagonista e partecipe di quel testimone che dobbiamo raccogliere tutti quanti per trasmettere alle future generazioni il senso di un passato orribile che non vogliamo si possa mai riproporre. La fiducia e la speranza nel futuro è il messaggio uscito da questo incontro secondo Ruth Dureghello. Io credo che occasioni come quella di oggi non siano soltanto ore per ricordare quello che è stato e per piangere rispetto a tanto dolore, ma che debbano invece fornire soprattutto ai più giovani delle occasioni per riportare la speranza, la fiducia nel futuro, perché se guardiamo al passato soltanto leggendo nelle pagine negative ma non cogliendo il senso di un ragionamento, di una responsabilità, come dicevo, che tutti noi ciascuno ha in quanto cittadino con la sua coscienza e con le sue caratteristiche, è difficile anche per questi ragazzi poter affrontare il presente o peggio ancora il futuro. E la Presidente della Comunità Ebraica di Roma lancia infine un monito. Questa pagina della storia non è chiusa e va tenuta alta alla guardia. Pensiamo solo che ci sono voluti quasi 80 anni per parlare così francamente, così direttamente di leggi razziali, di razzismo in Italia, di responsabilità, di indifferenza, di zone grigie, significa che tutto ancora non è stato fatto. Quindi definitiva no, anche perché essere definitivi significa chiudere le pagine. Qui le pagine le vogliamo invece lasciare aperte, come proprio nella tradizione ebraica, ricordare di generazione in generazione, perché quella pagina aperta di per sé è vita. Grazie.